Sono Daniele Conrad, della Conrad, e siamo all'ISE 2013 dove presenteremo nuovi prodotti della Conrad. In special modo presenteremo un sistema combo formato da un server musicale e movie e il client 5, che è il suo player. È un sistema computerless, è un sistema basato sul film e il proprietario, dove è possibile mandare il streaming, il film e la musica del server in alta qualità, sia per la parte musica che film, ISO Blu-ray e Blu-ray 3D. È possibile vedere film e ascoltare musica in più zone, grazie a un player per ogni zona client 5, oppure per la parte musicale un player 3, che ha dimensioni molto ridotte. L'interfaccia è semplice e intuitiva, per più pertine, può essere controllata ovviamente tramite il suo telecomando, ma può essere anche controllata con le applicazioni per il BAND, il tablet Android, i sistemi di automazione tipo Presto, Mx e Porto.